Ciao a tutti, sono Marco, vivo a Cablas, in provincia di Uristano e faccio il pescatore. Ho un'imbarcazione di piccola pesca, la mia attività principale comprende le attrezzi da posta tra magli, nel periodo in cui è consentita la pesca dell'agosto, cioè dal primo di marzo al 30 di agosto, e per il resto dell'anno facciamo i palamiti. In questo periodo di crisi accadere con la virus, la nostra pesca è molto limitata, in quanto non riusciamo a vendere il pesce, e per questo usciamo soltanto due volte a settimana, e anche in giorni prestabiliti. La conseguenza, essendo anche legati alle condizioni meteo, molte settimane non siamo potuti uscire. Io penso che l'unico che possa trarne beneficio, o almeno lo spero, per questo fermo obbligatorio di tutte le attività, sia l'ambiente, perché si riduce l'inquinamento. Per il resto, per il popolamento del mare, secondo me, abbiamo bisogno di molto più tempo. Poi torneremo alla normalità, io spero che il turismo torni a crescere qua in Sardegna, e che si sblocchi il commercio. Ai consumatori consiglio di consumare il pesce fresco, preferibilmente sardo, perché abbiamo un mare meraviglioso e poco inquinato. Auguro a tutti di tornare presto alla normalità, e forza Valis!